Mi trovo a Paolo VI, piazzale della Liberazione. Ritorno qui dopo circa due o tre mesi. Ricorderete che avevo denunciato il fatto che qui si creavano e si creano e si creeranno pericolosissimi allagamenti. Le abitazioni della zona vengono letteralmente invase, travolte dalle acque, proprio perché il sistema di sfogo delle acque, di scarico delle acque non funziona, in quanto abbiamo dei tombini che sono tappati, asfaltati addirittura e il canalone attraverso il quale le acque dovrebbero defluire. Questo canalone, chiamiamolo così, è ostruito, non viene ripulito e quindi si intase e le acque ovviamente si espandono in tutta l'area fino ad entrare nelle abitazioni. Un abitante della zona ha segnalato più volte, più volte, più volte la questione al comune e il comune è intervenuto, i lavori pubblici. Guardate che cosa hanno combinato. Guardate un po', hanno asfaltato questa parte del manto stradale, la parte appunto prospicente alla caditoia, ma la cosa assurda è che invece di creare un doveroso distacco tra il marciapiede ed il manto stradale, qui praticamente il manto stradale, vedete, arriva quasi al livello del marciapiede di modo che praticamente l'acqua, nel momento in cui si crea un allagamento, anziché, come dire, essere limitata dal marciapiede, proprio questo rialzo la fa entrare ancora più direttamente, in questo caso nel garage e comunque nelle abitazioni. Quindi un lavoro assurdo, un lavoro fatto da incompetenti, perché solo una ditta di incompetenti può fare una cosa del genere. Evidentemente non hanno avuto proprio il cervello, non hanno avuto l'intelligenza di dire scusate ma se io faccio il manto stradale, lo attacco al marciapiede, quando piove sarà ancora peggio. Ma questi incapaci, questi incompetenti, tanto incompetenti, ciucci e dannosi, così vanno definiti. Addirittura, vedete, in alcuni casi hanno praticamente asfaltato bloccando la caditoia. Vedete, la caditoia ora non si può, questa caditoia come altre, non si possono più rimuovere per poter pulire all'interno, perché c'è l'asfalto che praticamente copre un pezzo della caditoia, la blocca, la rende, come dire, non più sollevabile, non più estraibile. Guardate qui, non si può fare più niente, perché c'è appunto l'asfalto che l'ha bloccata, ha fatto un unico pezzo. Guardate questi scienziati. Ecco che poi i lavori vengono fatti con i piedi, ma oltre a essere fatti con i piedi non esistono neanche i controlli, questa è la cosa più grave, perché il lavoro tu lo fai male, amen, arriva il controllo e il controllo chiama il soggetto, il funzionario del comune, richiama all'ordine la ditta che ha fatto il lavoro e dice ritorna e ripara al danno fatto. Ma c'è ancora di più. E' peggio ancora, molto ma molto peggio, questa caditoia che è stata praticamente asfaltata completamente, guardate un po', tutta chiusa e quindi immaginate se qui era tutto aperto e le acque sfogavano, ora le acque si limitano qui con l'aggravio appunto che la caditoia non potrà essere più sollevata, rimossa, proprio perché è paralizzata dall'asfalto. Ma c'è ancora di più. Mi tocco frequentemente la testa perché le mosche ci prendono d'assalto, qui la pulizia, l'igienizzazione non esiste, aperta parentesi e chiusa parentesi. Qui dicevo c'era un tombino, il tombino completamente asfaltato, vedete, ricoperto di asfalto, si vede ancora il riquadro. Che dire, sono lavori fatti con i piedi. Il problema è stato segnalato, io non dico che si doveva risolvere completamente, ma almeno migliorarlo. Invece questi interventi hanno peggiorato ancora più la situazione e le mosche ancora creano problemi ulteriori. Ma scusate. Dicevo qui di un'amministrazione comunale, mi rivolgo all'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciraci. Caro assessore, guarda come lavorano le ditte che operano per conto del comune. Cosa dire? Incompetenza. Incompetenza da parte delle ditte e me ne freghismo. Così, disinteresse assoluto da parte dell'assessorato che non effettua i controlli dovuti. Sì. Sì.